E prendiamo atto che le forze anche trasversali del Consiglio regionale optano per discariche e inceneritori. Una presa d'atto chiara, noi siamo per piccoli impianti di compostaggio da realizzare nell'area metropolitana di Napoli, quindi c'è Scampia come ci sono altri luoghi e Scampia significa proprio perché noi vogliamo cancellare quelle pagine con una politica trasversale, intrisa di affarismo e che non ha saputo nemmeno contrastare efficacemente le comafie, per anni ci ha consegnato un'immagine di degrado e laddove c'è degrado noi vogliamo riqualificare e riqualificare anche con un'industria innovativa che non inquina, che è compatibile, che dà posti di lavoro, che mostra un'altra Scampia, un'altra Scampia che è abbattimento delle vele e riqualificazione come stiamo facendo, che è un compostaggio che non significa rifiuti ma anzi significa che dal rifiuto esce l'umido che non viene più mandato all'estero e quindi si risparmia e questo non è che sarà fatto solo a Scampia, ma secondo me è un bel messaggio che si parti proprio da un'area dove per troppo tempo c'è stata un'immagine sbagliata, quindi secondo me il Consiglio regionale ha cercato in modo maldestro di strumentalizzare preoccupazioni che noi invece dobbiamo controllare nel senso di spiegare, quindi far capire ai cittadini che non c'è nessuna preoccupazione, anzi è un segno di attenzione nei confronti di un territorio e soprattutto colgo l'occasione di questa domanda per dire con forza che io oggi non solo come sindaco di Napoli ma come sindaco della città metropolitana voglio garantire il no per sempre a discariche inceneritori in tutta la città metropolitana e qua voglio appunto far sì che nasca una grande battaglia politica che tenga insieme gli amministratori coraggiosi che ce ne sono tanti nella città metropolitana, i comitati, le associazioni, stando molto attenti che là la vecchia politica, quella dei trasversalismi politici che va a braccetto con affari e che per anni o se è girata dall'altra parte o è stata connivente vorrebbe far ritornare le lobby delle grandi opere pubbliche, delle discariche, delle cave che diventano luoghi in cui interrare rifiuti e poi diventare terra dei fuochi quindi una bella battaglia politica e credo che ieri il Consiglio regionale della Campania abbia scritto una pagina di trasparenza.